Pascolo abusivo e danneggiamento di beni privati. Con queste accuse un allevatore di 50 anni residente da Alfedena, FV, è stato denunciato alla procura della Repubblica di Sulmona, dei carabinieri forestali del Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise. L'allevatore, stando a quanto emerso nel corso delle indagini, aveva sconfinato nel comune di Barrea, portando al Pascolo i 300 bovini in aria e spazi non autorizzati. Il sindaco del piccolo centro altosangrino, Aldo Di Benedetto, aveva emesso anche l'ordinanza dopo rilevi effettuati dalle forze dell'ordine. Con il provvedimento, il primo cittadino aveva ordinato all'allevatore l'allontanamento immediato della mandria di Ovini, dei Pascoli, del comune di Barrea e la rimozione delle recensioni installate lungo i tratti di delimitazione di percorsi montani e della strada campestre a Ruccia. I forestali, dopo numerose sendalazioni arrivate anche dagli automobilisti che si sono ritrovati a tu per tu con gli animali, si erano appostati sulla strada 83 marsicana per documentare il Pascolo abusivo. Ne è scaturita quindi una denuncia dell'autorità giudiziaria dal momento che il 50enne in passato era stato più volte multato dalle guardie a parco.